ciao ragazzi bentornati sul canale oggi ragazzi siamo tornati con una 24 ore abbiamo visto dopo appunto quella della pizza che è andata molto bene che vi è piaciuta tanto abbiamo deciso di riproporre un'altra 24 ore questa volta solo con panini ragazzi sono le 9 e 39 e quindi ovviamente andiamo a fare la nostra colazione posto che ci consente di fare colazioni con i panini ovviamente il mac e quindi abbiamo ordinato ed eccolo qui ecco qua subito ordinato portato a casa col tele trasporto allora un toast un toast classico del net e poi abbiamo preso ragazzi il mac crunchy bread ovvero il panino quello con la nutella per affrontare la giornata ovviamente con le energie giuste uno a testa e mezzo toast quindi andiamo alla grande proprio direi no vite oppure qualcos'altro vorresti va bene così no basta iniziamo leggeri dovremmo mangiare parecchio per questo vitello ragazzi prima cosa faccio il toast e incontro già il toast subito ma quando lo ordini a casa è sempre più freddo no si sa da molto non lo prendi io ma che stanno vedendo buono ma io buono anche se è un po' un chiumbo il pane si ferma nella gula allora vitello visto che tu hai mangiato il toast io mangio il panino il mac crunchy bread e vediamo un po' con questa nutella mai mangiato pure io questo qua non l'ho mai mangiato sembra quel classico pan carri che ci schiaffi la nutella in mezzo e te la mangi a colazione al finale poi per quello che costa comunque al mac ci sta come colazione se uno va di fretta se lo prende al volo e se lo porta vitello e ora tocca a te il dolce vai ragazzi io già l'ho provato una volta mi è piaciuto vabbè si è un classico panino con la nutella però guarda là è bella abbondante la puccia pugliese con la nutella approvata da un bel po' non mangio il toast perché alla fine pure io l'ho visto sempre come una cosa che conviene prendere a colazione più che a pranzo quando vai là sempre crispy eccetera visto che comunque abbiamo fatto il video con la colazione tanti ricordi perché quando ero piccolo al vecchio prendevo sempre solo il toast anche tu grande sono le 13.55 quindi direi che possiamo pranzare o no Leonardo vitellino molta fame questa volta a pranzo ragazzi andiamo da pescaria che fa panini ragazzi di pesce quindi qualcosa di innovativo qualcosa di nuovo per non prendere sempre gli stessi hamburger andiamo con l'assaggio perché io non ci sono mai andato neanche Leonardo a quanto pare vediamo un po' com'è ok ragazzi è arrivato il primo panino preso dal tartar di gambero ma ci sta dal tartar di gambero stracciatella al frutto della passione insalata di spinacino con olio e limone granella di pistacchio chips di carote di polignano e ceviche di mela morgina cipolla rossa capperi x hours later zenzero succo di limone senape e miele basilico sale e olio evo fatta lì sera spesa è stato pure sacro grallo la muraglia cinese c'è qualsiasi cosa in questo panino non so cosa possa mancare ahhh della gamorza soddisfazione adesso vabbè è allucinante vaiù è buonissimo non gli avrei dato un euro a questo mio detto pagina col pesce vaiù è allucinante farà la gamorza fammi vedere si sentono tutti i sapori benissimo non ci sta una cosa io pensavo che comunque con tutti questi ingredienti qualcosa invece si sente bene tutto la stracciata fa paura e poi è freschissimo cioè con questo paldo è perfetto e ora e tu invece? ragazzi è arrivato il panino finalmente anche a me ma il mio panino è polpo fritto e ora vi svelo subito gli ingredienti rape, aglio e olio mosto, cotto di fichi ricotta e pepe olio e alice a portata ma vedi è una bella capata qua è incredibile è una scoperta secondo dopo secondo cioè il polpo è buonissimo fritto qua l'improvviso è salato non so cosa la rende salato è molto particolare buona propria comunque ragazzi il panino è veramente eccezionale io do personalmente un 9 è proprio il minimo per un panino di così alta qualità veramente di te tu che puto dai? io do un 8 quindi 8,5 di media abbiamo pagato per questi due panini e due bottigliette d'acqua 23 euro quindi comunque un prezzo giusto visto che comunque abbiamo mangiato un pisce sostanzialmente ragazzi sono 17,45 si è fatto una certa Alessandro io andrei a fare uno spuntino già sono vestito siamo rimasti un po' vestiti per uscire poi dopo perché sappiamo che era un video sai molto movimento dopo il pesce poi è una bella cilla a casa andiamo non ce la faccio giù più a mangiare questo hamburger questi panini sono pesanti andiamo a prendere lo spuntino vai dal beccanio Teddy Corner è nostro allora vabbè meglio non scendiamo perché già era un po' appesantito sinceramente non ce la facevo sarà qualche fan o magari qualche fans femminile lo speriamo intanto va subito quindi a parte di scherzi ragazzi si è fatto l'orario quello spuntino ovviamente andiamo con qualcosa di leggero come spuntino non è che ci mangiamo il panino incredibile abbiamo avuto due panini due cheeseburger dal mech quelli classici anzi no questi sono quelli proprio da me hamburger proprio quelli con cetriolo e nessuno piace andiamoli a mangiare come spuntino e poi vediamo insieme la cena allora io questo qua lo prendo sempre di accompagnamento agli altri panini perché va a completare la fame insomma e lascio anche il cetriolo perché comunque a me non dispiace classico panino da omelio per smorzare la fame come spuntino onesto Peter tocca a te con lo spuntino grazie tocca a me vediamo apriamolo voglio pure aprire che non mi ricordo che c'è dentro aprirò un po' figo bellissimo questo si vede qua da chianina certo molto invitante ragazzi allora proceda dai il cetriolo ci può stare ora vediamo proviamolo guarda rimane proprio bloccato pensavo peggio non ricordavo ai tempi ai tempi tu ai tempi solo mangiavi vede il mac foto 10 più ok ragazzi sono le 21 e 53 quindi andiamo dentro con la cena e per la cena ragazzi abbiamo preso il panino da Mario Tortola ovviamente conosciutissimo a Napoli abbiamo preso ragazzi il panino con hamburger cheddar bacon e patate fritte un classico un panino classico e adesso ci mettiamo ovviamente le salse ovvio che le voglio ok come come adesso abbiamo messo pure ketchup e mayo di base comunque Tortola non delude mai veramente un altro livello rispetto al panino di un euro ovviamente però veramente ragazzi Tortola quando hai quella pane te lo ordini e sei sempre contento perché alla fine non delude mai aspettative vede visto che c'è Sofia un pezzettino anche a lei così gode anche lei fa anche lei la 24 ore panino roto a Tortola come per pescaria va 8 wow come pescaria si si come pescaria dai anche se due panini molto diversi però ci sta per i miei gusti 8 entrambi quindi ragazzi questa 24 ore solo panini finisce qui mi raccomando prima di 10.000 iscritti per una settimana solo panini lasciate un bel mi piace se volete iscrivetevi al canale noi ci becchiamo alla prossima ciao ragazzi ciao ciao ciao